Degli operai, lì c'è già uno sciopero in corso, prego. Esattamente, le RSU sono state convocate dai direttori del personale, ci ha raggiunto Calcagni, della FIM CISL. Che cosa chiedono i lavoratori? I lavoratori semplicemente chiedono di avere uno standard di sicurezza elevato, ma soprattutto adeguato a quello che è il problema. Qui già da diversi giorni c'è stato un confronto tra le RSU, sfociato in un accordo tra le parti. Tra l'altro i lavoratori hanno rimesso anche qualcosa di proprio in questo accordo e nel frattempo l'azienda si era impegnata a garantire adeguate sanificazioni e ambienti salubri. In questo momento le RSU sono nuovamente al confronto serrato con la direzione aziendale e in questo momento stiamo aspettando che c'è chiaramente il risultato sperato, che ancora non arriva. Allora, questa è la voce dell'RSU che vi abbiamo voluto dare in diretta la loro preoccupazione e il loro diritto a lavorare in sicurezza. Questo ovviamente alla società chiediamo di farci sapere qual è la posizione, quali sono le loro dichiarazioni in merito a questo. Io prima di andare in pubblicità e nel ringrazio...